Ecco lo stile domani ragazzi, riecosi quanti carichi pimpanti, Arzil nel canale, un altro video insieme, buon pomeriggio come vi avevo promesso stamattina, andiamo a fare un'altra analisi di quello che è successo ieri in campo ma anche dopo perché le parole di Allegri sono state molto molto pericolose per le repercussioni mentali dei giocatori tant'è che come vi ho detto Giuntoli non ha preso bene né queste dichiarazioni né lo schieramento in campo che è andato contro il copione stilato prima della partita e anche Elkan ha tuonato a suo modo perché come sappiamo Elkan è sempre tenuto informato da tutti i dirigenti dell'area sport di quello che succede quindi prima di partire col contenuto come sempre vi invito a lasciare un bel pollicione alto alto iscrivetevi al canale mi raccomando e attivate la campanella delle notifiche mi raccomando è quella la parte più importante per rimanere sempre aggiornati su ogni contenuto giornaliero che esce in questo canale circa 3 al giorno a varie cadenze appunto tra mattina pomeriggio e sera parto con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti ragazzi benvenuti in community lo stilello Magno va accoglie con un grande abbraccio forte forte un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione ad ore tra questi tutti i meravigliosi strabilianti abbonati allora intanto partiamo col video facendo i complimenti vivissimi a Yannick Sinner che 23enne ha eguagliato il record di panata di 48 anni fa vincendo un grande slam in Australia Open contro un Medvedev che era partito 2-0 secco a livello di 7 6-3-6-3 forse convinto di averla già vinta ha ammollato un po' la presa e Yannick Sinner l'ha ribaltata 6-4-6-4 e poi l'ha portata a casa con un 6-3 bello secco è veramente straordinaria questa performance grande vittoria, grande mentalità vincente e resilienza nel resistere anche sotto i colpi del russo che sembrava averla portata a casa e quindi veramente questo è un ragazzo di grande mentalità ecco perché dico i giovani vanno trattati con le pinze lui avrà anche comunque un gruppo di motivazione motivazionale con un mental coach e tutto però un parallelismo tra il tennis e il calcio si può fare sempre perché i giovani come avete visto se ben inseriti, ben instradati e allenati da gente competente possono diventare delle eccellenze mondiali ecco perché come ho detto vanno trattati bene non come Ildiz che è stato umiliato, denigrato in conferenza stampa da Massimiliano Allegri brutto dirlo ma è così perché lui poteva tranquillamente risparmiarsi la battuta che ha fatto su di lui dicendo che sta bene in panchina perché l'ha fatto? Per non ammettere i suoi errori la formazione iniziale con Milik a fianco a Vlaovic che grida ancora vendetta perché sono due attaccanti che si pestavano i piedi tra di loro fanno movimenti uguali e entrambi cercano la via del gol e alle volte senza magari cucire il gioco e pensare al bene della squadra soprattutto quando sono tutti e due in campo quindi ripeto ragazzi anche dopo il calterrino rosso Allegri avrebbe potuto tranquillamente giocare col 3-4-2 in attacco mettendo Ildiz e con Milik era già fuori e in difesa potevi giocare col 3-5-1 con Ildiz che partiva un po' sotto la palla poi nell'azione di distensione rubando il pallone all'avversario potevi tranquillamente avere un uomo in più nella costruzione poi per andare a finalizzare l'azione potevi mettere Ildiz a fianco a Vlaovic e poi chiedere a un ragazzo di 18 anni con la fame negli occhi e l'aggressività del leone di fare qualcosa in più e l'avrebbe fatto tranquillamente perché il turco lo sappiamo classe 2005 avrebbe dato tutto quello che aveva pur di emergere di fare assist e di fare dei gol contro l'Empoli quindi peccato ragazzi veramente per ieri ma Elkan è su tutte le furie nel titolo sono stato anche un po' moderato non ho detto infuriato con Allegri però è molto spazientito e sconcertato per quello che è successo ieri perché sa anche lui che l'obiettivo primario della società è quello del quarto posto ma visto il campionato che si sta delineando e visto che eravamo comunque virtualmente potenzialmente a più 4 sull'Inter che doveva giocare con la Fiorentina non fare 3 punti contro l'Empoli è una grande pecca e quindi ripeto ragazzi io spero veramente che le cose cambino Giuntoli come ho detto è molto arrabbiato e ha avuto questo scontro questo battibecco con l'allenatore perché? perché lui ha detto ok così non si può andare avanti bisogna trovare un sistema un modulo di gioco che anche in situazioni di difese chiuse o di episodi controversi ti possa consentire di valorizzare il parco attaccanti o comunque fare un gioco offensivo che permette anche i centrocampisti di inserirsi e questo non è sicuramente il 3-5-2 ma il 4-3-3 oppure alla bella è meglio il 3-4-1-2 ecco perché Giuntoli sta puntando Sudakov ecco perché comunque sta puntando Cup Miners Samaric tutti i giocatori che possano in qualche modo tornare utili alla causa in questo modulo qua ovviamente Allegri per questi moduli qui non è ferrato lo poteva essere quando aveva i campioni il Freud Klasse nel Queen Canyon ma in questo momento per questo tipo di modulo che è giunto le prediligie ci sono alle palle soglie altri allenatori mi vengono in mente in questo momento Tiago Motta che è proprio uno da 4-2-3-1 Zidane svincolato che faceva il 4-3-3 e anche il 4-3-1-2 Torre a Madrid perché non si può dare che dopo tre anni praticamente di gestione Allegri non è ancora provata a fare la difesa 4 cioè a questo punto Nel Natura sarebbe anche riuscito ad andare un po' oltre certi limiti e imposizioni ecco perché ripeto Giuntoli insieme a Manna Calvo che sono un po' la fazione che si è creata sta cercando di portare un po' di rivoluzione di portare un cambiamento che si pensi possa attuarsi in maniera poi definitiva a giugno 30 giugno 2024 l'1 luglio parte il quarto anno di contratto di Allegri come sapete questa partita ha un po' ricominciato ad alzare il polverone sul suo futuro ovviamente che comunque verrà delineato a marzo perché già lì Allegri si siederà con la società vedendo anche come ha dato il match di San Siro e quale sarà il discorso Corsa Scudetto e Coppa Italia e poi tirare le righe capire se il Renatore è disposto a rimanere per amore della Juve diciamo così per 3 milioni più 1 di bonus al raggiungimento di certi traguardi oppure le strade si divideranno però c'è anche da dire una cosa che Allegri potrebbe dire ok perfetto non accetto il rinnovo mi faccio il quarto anno a 7 milioni più 2 di bonus perché la Juventus comunque arriverebbe quarta il quarto anno suo e poi mollare la baracca rimanere fedele appunto al contratto eccetera però ecco ripeto anche nel quinquennio sembrava che Allegri dovesse rinnovare nel 2019 dopo la rimunitazione con l'Ajax che grida ancora vendetta e poi lo esonerarono pagandogli comunque quello che era rimasto del suo contratto quindi tutto è ancora possibile è ovvio che in queste situazioni molto complicate dopo un pareggio amaro in casa contro la penultima in classifica vengono fuori tutte le situazioni sbinose che c'erano comunque sopite nello spogliatoio nell'ambiente e quindi ecco perché si ricomincia a parlare di quello che vuole Elkan di quello che sarà il futuro della panchina di quella che sarà la nuova mentalità e la nuova politica della Juventus che vuole tornare grande e a dominare e secondo me per fare questo ci serve un top allenatore ripeto sulla piazza allenatori disposti a prendere poco ma di grande valore non ce ne sono tanti come abbiamo detto Conte è disposto a rimanere lo stipendio Diego Molta prende poco Palladino prende poco Zidane ha detto che avrebbe ancora piedi alla Juventus e allenerebbe anche per 4 milioni più bonus a scalare in alto al raggiungimento di alcuni traguardi ripeto ragazzi i nomi sono tanti addirittura quello di Klopp ma il Klopp è un autore che prende 18 milioni quindi vedremo ragazzi cosa succederà da marzo in poi non voglio fasciarmi la testa prima di romperla però era doveroso farvi questo contenuto ditemi la vostra bel pollicione iscrivetevi al canale attivate la campanella a presto come sempre grazie di esserci un abbraccio forte da me e da Nila come sempre vi ricordo prima di concludere scrivetemi in privato anche su Stivello Magno Facebook aggiungetemi come amico vi farò avere anche lì nel gruppo tutte le notifiche che non dovessero arrivarvi tramite YouTube a presto come sempre forza Juve fino alla fine grazie a tutti